Tutti credono che qui sia il silenzio. Tutti credono che io sia muto, ma non è il silenzio. Io non sono muto. Siete voi che non avete orecchie per questo mondo. La mera parola è così inutile e superficiale. Puoi contraddirla con il suo opposto nel momento stesso in cui la pronunci. E' la comunicazione degli incoerenti con se stessi, ma il pensiero. Il pensiero non puoi sopprimerlo o soggiogarlo. Viaggia, incurante dei muri che gli poni. Nella sua incoerenza ti lascia coerente con te stesso. Il pensiero è la comunicazione di chi non teme la realtà. Io e l'abisso parliamo così. I cinque sensi sono abrogati. Troppo superficiali. Non mi servono. Non ci servono.